Grazie Presidente, noi abbiamo condiviso appieno questa mozione che abbiamo scritto a più mani, così come abbiamo condiviso la richiesta di fare una comunicazione urgente e quindi anche un consiglio straordinario sul tema, perché noi a differenza di una forza che è pronta per andare all'opposizione, a questo punto votano a prescindere, sono forze dell'opposizione, noi che ci proponiamo forze di governo entriamo ogni volta nel merito delle questioni. L'UNESCO dà ragione alle preoccupazioni del Movimento 5 Stelle, una lettera che è arrivata al Nardella molto preoccupante, non era una cartolina di auguri di Natale ma era un monito molto duro sulle opere infrastrutturali, su tutto quello che stava e sta succedendo intorno alla città di Firenze. Queste sono azioni, atti semplicemente di buon senso, buon senso. Invito, non abbiamo ancora schiacciato il tasto del voto, non so se il collega Fattori vorrà richiedere il voto elettronico. Chiedo scusa. Perfetto, la chiede Fattori, la chiede Fattori. Chiedo alla maggioranza un ripensamento anche su questa mozione. Grazie.